Dal Vangelo secondo Giovanni Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i Giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. E' molto brutto quando la Chiesa scivola su questo atteggiamento di fare della Cassa di Dio un mercato. Queste parola ci aiutano a respingere il pericolo di fare della nostra anima anche, che è la dimora di Dio un luogo di mercato, vivendo nella continua ricerca del nostro tornaconto invece che nell'amore generoso e solidale. E' comune, infatti, la tentazione di approfittare di attività buone, a volte doverose, per coltivare interessi privati, se non addirittura illeciti. Perciò Gesù quella volta ha usato le maniere forti per scuotere da questo pericolo mortale.